questa conferma di sarri per la prossima stagione a me non mi convince io non credo a questa cosa che rimarrà a fare mercato io io credo che la società valuterà a fine stagione valuterà a fine stagione ciò che si è vinto e ciò che si è fatto credo che il cammino in europa conterrà tanto non ci voglio credere a questa voce che confermato anche l'anno prossimo farà mercato perché la juve non ha mai fatto fare mercato agli allenatori quindi questa è una cosa che io non tanto vedo vedo corretta quindi non ci credo ovviamente a fine stagione la juventus tirerà le somme con maurizio sarri credo che possiamo dimenticare guardiola dopo questa porcheria della uefa che praticamente riammette il siti in coppa campioni e non punisce con appena 10 milioni diego che è come se farebbero una multa media 10 euro quindi 0 ennesimo scandalo della uefa non punisce i potenti e quindi raga credo che comunque sia adesso guardiola diventano qualcosa di difficile con la squalifica uefa guardiola era una pista molto molto viva per la juventus comunque staremo a vedere stasera vediamo la pazza inter cosa a fare la fine alla fine della stagione e ripeto per me quest'anno conterà tanto come finisce questo questo campionato sicuramente 85 per cento abbiamo già vinco e soprattutto il cammino in europa dirà tanto e si valuterà poi per diciamo la conferma di sarri o meno però questa cosa che rimarrà sicuramente a fare mercato ci credo poco comunque ragazzi staremo a vedere stasera vediamo la pazza inter cosa fa nel frattempo che abbraccio tutti e come sempre iscrizione al canale ciao